C'eravamo solamente io e te e ora resto solo io Dopo sempre sarai e la casa nel celeste è uscito il tuo nuovo singolo intitolato Settembre Che cosa racconti con questo brano? Con questo brano ho voluto raccontare, mi sono fatto più una domanda Il momento esatto in cui due strade si dividono Allora con la frase, la prima frase che scrissi infatti era proprio Io resto qua ma il mondo era da vivere insieme Mi chiedevo come mai due strade se sono destinate o si parla di un destino insieme Poi si separano, quindi parlo proprio di questa nostalgia, questa diciamo mancanza di qualcosa Io resto qua ad aspettare la vita che viene E scusa se non ho belle parole ma il mondo era da vivere insieme Come è nata la canzone? La canzone la scrissi i primi di settembre, era una tarda notte era È nata tutta da una semplice frase che appunto è Io resto qua, nel mondo era da vivere insieme E mi ricordo che inizialmente doveva essere solo pianoforte e voce e qualche chitarra Poi l'ho lasciata lì da parte perché non la sentivo pronta Dopodiché con i mesi, passando con i mesi Ho voluto mettere questa orchestra che ha fatto un lavoro magnifico secondo me E da lì è venuta la frase finale A settembre ricomincio con nuova musica per te Sono sempre molto particolari anche i tuoi video Questo dove è stato girato? Questo video l'abbiamo girato tra Frontone, Acqualagna e Pergola E ormai quella cascata penso sia diventata un simbolo L'acqua è il simbolo dei miei video L'abbiamo girato in una settimana mi ricordo E abbiamo diviso bene tutti i giorni perché erano più cose da fare Volevamo prendere più momenti, quindi la mattina, più il pomeriggio L'ultima scena è stata tra l'altro quella della cascata Il giorno prima aveva nevicato, quindi l'acqua era gelida Però vedendola io ho detto voglio andarci dentro senza meno Il problema è che quando una volta arrivato lì sono inciampato Quindi mi sono completamente bagnato Ho detto dai ormai siamo qui, la facciamo E i ragazzi tra l'altro li saluto, i videomaker che stanno tutti male a casa Con la febbre perché Dove è possibile vederlo e ascoltare la canzone? La canzone si trova in tutte le piattaforme digitali E il video è uscito il 24 febbraio su YouTube Stai lavorando anche ad altri progetti? Sto lavorando a un disco Sto lavorando a un disco che voglio lasciare un po' di sospetto Non si sa quando uscirà Però sarà una cosa più, cioè parecchio emozionante Ecco, ci tengo molto Io resto qua Ad aspettare la vita che viene E scusa se non ho belle parole Ma il mondo era da vivere insieme Avrei voluto dirti che Nel mio mondo Eravamo solo noi